che ho? chi so io? è rosso? oh vale passare eh? vale? dai a vale, dai a parla a valerio e basta noi non facciamo niente eh ma non c'ho qualsiasi oh io tranquillo, oh vedi? oh guarda 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 ma noi comprendi eh? vola in mezzo mamma mia Javier tira Cassano sta a dormire io Ferdinand però eccolo oh Dio che palloni che mette Totti ragazzi non segnerà mai eh? non segnerà mai però che palloni che mette mamma mia guarda che pollo oddio ha presa ha presa era uno schema maledetto nooo buona buona ciao rosa questo buona è pure nostra ma non era ma non era non era dai palla fermata benissimo la difensore vola Beckham vola Beckham un secondo si oddio 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 la finta oddio che ha fatto quando sta il pallone ma ma perché questo sta nei difensori e la verticalizzazione buona idea la nostra dietro bravissimo Dita bravo che cazzo fai porco Dio per un'ora e mezza ci ha messo bravo guarda che culo guarda che culo guarda che culo guarda che culo non si può fare non si può fare mamma mia li odio ma tutto a posto ma che cazzo ci avete spazzo a sto cazzo di pallone no vabbè aspetta aspetta un attimo c'ho 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 un ritardo sul su 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 bordo fermi fermi lungo linea lungo linea ahhh e lei va t'anticappato bravo bravo alta coglione su ovvero c'è l'ultimo ma c'è il io lo c'è No, sono troppo lenti, raga. Fermi, oh. Allò. Porco Dio, bastardo. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Un treo. Dai che è un coglione. Niente. Con che si è sposta? Non lo so. Non vedo il pallone io, porco Dio. Non vedo il pallone io, porco Dio. Ma non era angolo. Ma chi? Bravo. Paura? Eh, porco Dio. Niente. Niente. Te ce li mettete su qualsiasi. Te ce li mettete, dai. Ma stanno avanti per tutto questi. È un po' tardato. No, vabbè, dai. No, ma se io sto ritardato. Ma adesso loro stanno avanti per tutto. Io, io sono ritardato. Ma questi stanno, non sei, eh. Oh, guarda quanti sono. È normale pure che stiamo dietro. No. Mi tracenta bene il passaggio. Oh, no. E' buono. 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 Eh, qua se corri e vinci tutto. È normale. Che inlevate, cretino. Oh, niente. Io, io ho un ritardo su Joystick. Alla prossima cambio il pallone, che non lo vedo. Io ho giallo. Guarda la decisione. Questa è la ricordata. Questa è la ricordata. Fin all'ultimo. Che è uno tsunami. Sì. Attensa è sempre. no c'ho un ritardo sul giocicchio dai basso oddio devo giocare a gta dai è meglio non vede il pallone che leva di cretino guarda che culo c'è mamma perché sergio perché tu cazzo stanno a tutte le parti pensiamo ma che è porco dio dai io c'ho un ritardo al giocicchio davvero io guarda 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 mi fa voto la connessione che connessione c'ho 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 è il turbo c'ho porco dio connessione non so che cazzo la normalità sarà quella è una dittatura sanitaria è una dittatura sanitaria ecco fatto mamma mia adella orco dio ma che tiri ma che tiri no infatti faccio questa prova da gta mi sto strani no dai non posso giocare con voi non siete buoni cambia sì tutto cambia porco dio go go non è possibile sono da tutte le parti da tutte e poi io fa checco vaffanculo segna mai checco non mi ha segnato sì vabbè ma che è il Brasileo abbiamo vinto allora abbiamo posso spegnere? no ho un ritardo assurdo dai sul joystick ma come cazzo ma guarda 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 questo quanto ce l'ha dato? 90 95 ah per forza sì omm ma non è rigore bella no ho un ritardo al Joyce sì che io infatti esco basta basta no no basta che i gare come sono tori coglioni sì 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 vabbè e l'ho gare